Bella ragazzi e bentornati qui con un nuovo video Oggi per la prima volta volevo portare sul canale questo gioco della serie di Clash of Clans più o meno Che è Clash Royale Allora dovete sapere che io sono sempre stato un appassionato di Clash of Clans Perché presente a scuola passavo le giornate giocando a Clash of Clans Però non l'ho mai portato su Youtube perché nel momento in cui diciamo è cominciato ad andare di moda su Youtube Avevo smesso di giocarci e quindi non mi sembrava corretto ricominciare a giocare a Clash of Clans soltanto per fare video su Youtube Adesso è uscito Clash Royale e sinceramente mi ci sto chiudendo parecchio e ci sto giocando tantissimo Quindi ho detto perché non fare un video su Clash Royale Non sono fortissimo cioè probabilmente faccio ridere Il mio deck non è neanche niente di che adesso ve lo faccio vedere comunque Voglio aprire dei bauli insieme a voi e fare una spesa di chest opening E poi far vedere il mio deck e qualche partita Allora come prima volta vi faccio vedere il deck poi andiamo ad aprire i bauli Se vi piace l'idea di video di Clash Royale me ne possiamo fare anche uno ogni tanto E ce lo direi qui sotto ci direi si fallo e lasciamo 5000 like Così vedo se vi piace questa serie e posso continuarla Allora il mio deck è fatto da Io sono nella situazione di quelli che non sanno cosa cazzo sia questo gioco Quindi se sto zitto è perché non ci ho mai giocato e me lo sto spiegando Vabbè ora se lo scariciamo pure lui un po' dai Comunque abbiamo un cavaliere Che a livello 6 secondo me è molto forte Poi abbiamo gli arcieri di sgherri Allora gli arcieri di sgherri li uso per ammazzare tipo che ne so il principe quando mi buttano un principe o un gigante No? Eh finché Cioè i terri c'è Poi le frecce che servono per le unità quelle piccole Quando sono tante prendi le frecce e li ammazzi tutti E gli spari I goblin sono molto forti perché attaccano velocemente e fanno malino Diciamo Quindi se li mandi dietro al gigante fanno male Il gigante tanca tutto praticamente Che poi attaccano direttamente le strutture giusto? No Il principe attacca le strutture Il principe è gigante E il principe è buono perché fa dei danni immensi Cioè quindi se tipo riesce a mandarlo da solo contro una torretta vince da solo E poi c'è la strega che è fortissima ad eliminare le truppe quando sono tante Perché fa tipo fa male ad area Io uso questo deck però non sono molto convinto Sinceramente non è che vinco molto con questo deck Perciò consigliatemi se avete un deck migliore di questo E magari poi lo cambio e farò un video con un nuovo deck Vedere se riesco a vincere meglio Allora sono a 1078 trofei E sono in un clan che è fatto da un mio amico Se volete entrare potete anche entrarci Si chiama così FF19 Si entra con 800 trofei E andiamo ad aprire il baule che ci danno in omaggio E vediamo cosa troviamo 42 gold Che è buono I barbari E un altro pecca Che comunque i pecca valgono quindi va bene Abbiamo un altro omaggio Buono Lo andiamo ad aprire anche questo Soldi Gemme Wow Barbari Wow E il razzo Carta rara Non ci fanno un cazzo E il razzo Comunque vabbè Adesso abbiamo il coso gigante Cioè il coso così Il baule gigante E vediamo cosa c'è dentro 180 1000 1030 1030 Porco cane 1000 gold Si Ah ok Dai Oddio Lo scherzo gigante Carta epica Credibile Oddio mio E la valchiria 13 valchirie Per non farse mancare niente Ah Poi E 122 arcieri Cioè avverete possiamo farli arrivare a livello troppo Capito? È fantastico livello troppo Fammi migliorare subito perché questi li uso Livello 6 per gli arcieri grandi E posso già migliorarli Appena arrivo a 1000 Mori li miglioro un'altra volta Allora I mando al 7 Sarebbe la mia prima truppa al 7 Ma tipo Ragazzi Dove sta quel coso gigante che hai detto te Che è una carta epica Lo scheletro gigante Ah eccolo Però non lo uso perché Devo vedere quel deck fare Faccio il deck scheletro Faccio tutti i scheletri Vi faccio vedere un po' come è la mia tattica Allora questa è intanto l'arena dei pecca Che è fighissima Guardate che roba Io aspetto sempre il massimo dell'Elisir E poi butto il gigante più lontano possibile In modo che ho tempo per ricaricarmi l'Elisir Tipo Mo lo butto di qua Io butto la tega di qua Ma che so Questo mi ha mandato l'ordate sgherri Ok il cinghielo è morto Mo dovrei fargli malissimo calcola Io mando pure sti cazzo dei goblin Cioè io dovrei riuscire a prendere la torre Probabilmente No Ma ha fatto fuori tutti i coi Bombarlo di merda Ma io mando il principe di qua Così è occupato Ah cab Guarda guarda che tattica Guarda il principe quanto toglie Una cifra Boh Oh mi sono quasi presa la torre De là Boh Eh mo è morto il principe però Allora mo mando un gigante qua Che ferma i barbari E dietro gli mando gli arcierei A livello 6 poi tra l'altro Perché sono morto Il gigante è proprio Frega cazzi del mondo Sì cagliare il corpo cane Morti tutti Posto questo mi ha mandato De qua al coso Quindi io mando il principe del qua E mi sono riuscire a prendere la torre Mandiamo i goblin Che mi danno una mano Carcola t'ha presa Aspetta Buono No non t'ha presa Buono 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 Mandiamo gli sgherri dietro La strega Se abbiamo sta torre Ok gli mandiamo pure 60 secondi in istante Buono così Flecce Mi sa che non servivano Non servo Vabbè scialla Allora Praticamente adesso è chi fa prima Manda il principe Manda il gigante Il principe del G Aspetta guarda Qua ti hai preso la torre Oh è combattuta sta cosa Strega dietro Sgherri Ma tutti dell'A Stagliare il pezzo Col principe dell'A Cioè però No 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 Devo mandarlo per forza qua Anche se non si usa il principe in difesa Però vabbè mi servono tanti danni Oddio Qua si mette male Bam Bam Devo tankare Devo tankare Tanca 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 Vai sgherri La battaglia termina tra Dieci Nove Ma non è successo un cazzo Cioè pareggiate Eh Ma fanculo Vince lui Ma come vince lui Perché ha distrutto la torre Che falle oh Che falle Guardate abbiamo preso quasi tutte e due le torre 150 Ma è rimasta Parca traia Ma è rimasta con il cervello E' che vince tutte Quando l'unica volta È far vita La perde Cioè è fantastica Allora battaglia Ancora dai Ho fatto una cazzata qua Porco cane Porco Sta tipo esploso la vita Però presa la torre eh Ah ma l'adeggia Proprio così Ma se ne è accorto che No secondo me no Bam Fatti forti Mo tocca un attimo La sentita Ecco il gigante Quello che avevo trovato prima Oh ma che è sto coso Che me andiamo sti sgherri Ma che è sto coso strafigo Cioè guarda che roba È infiammabile Ah ma è spodabile No Che culo No È troppo forte per coso Ok il pincio ve la spreca È spregato eh Mo gli mandiamo subito il principe Non dovrebbe farcela Rifarci Gli mandiamo questo Grande che ha spregato così Forse abbiamo la torre finale Che si è giocato pure su ste cose Capito Vedi guarda quanto gli ha levato Vabbè in pratica il backdoor Sì Ma perché vai su quell'altra torre È deficiente Ma giusto così Ma no Ok ha spregato la posizione Perfetto Io mando un underprincipe E sappiamo un undercusso Capito Un undercusso Guarda guarda che coglione Frecce 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 Tanca bestia Tanca bestia Ottimo Dai che ce la fa Sgherri 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 Dai che abbiamo vinto Dai che abbiamo vinto Mamma c'è sta Tristana D'hiamo vinto Tristana sta spaventando D'hiamo vinto Che fatica Baule d'argento Se non lo battessero il corone Mancherebbe altri 4 corone Ma arrivava al 10 Comunque è stata fighissima Sta vittoria Vedi? Sì È stata bella A parte il fatto che Quando lui è fatto die E io ho visto le frecce partì Però Non piega Datemi consigli sul deck Come posso migliorarlo Per oggi finiamo qui Abbiamo fatto tre battaglie L'ultima è stata tipo epica È stata troppo Non lo so È stata al piano di suspense Ho capito Medievale proprio Cavalieri Io mandavo di tutto Per cercare di farmi uscire le frecce E mandare le frecce Comunque ragazzi Se vi è piaciuto Lasciamoci qui a like Noi vi becchiamo Al prossimo video Come vedete A me piace questo gioco Quindi se volete Che lo continui Scrivetelo E lo continuo senza problemi Perché è un video Che mi piacerebbe fare Perciò ragazzi Da Granasi è tutto Ci becchiamo Al prossimo video Speriamo di migliorare Studeck E arrivare a 2477 trofei Tutti Tutti quanti Tutto il mondo Direbbe Ciao Da Granasi è tutto Bella Ciao